bella ragazzi siamo arrivati nello speciale 400.000 iscritti beh che dire solamente una parola grazie di cuore a tutti siete come una famiglia vi voglio veramente bene e grazie mille a tutti quanti i youtuber che vedete qui nel video che hanno partecipato con me stare con voi è sempre una grande emozione dalla mattina alla sera divertimento assicurato spero che questo video ragazzi vi possa piacere mi raccomando lasciate un bel pollice in su per questo speciale un po' differente dagli altri e ragazzi miei se ne volete poi altri fatelo sapere nei commenti e buona visione e grazie mille ancora bella a tutti ragazzi ben ritornati al vostro Joker siamo arrivati nello speciale 400.000 ragazzi come dire siamo qua un po' tutta bella gente tra di noi fa schifo cosa vuole? ragazzi siamo nel primo phase già cominciano le mamme qui eh e vi voglio dire akab non è stato Anima questo qua ragazzi facciamo reggette ai primiti che capita Anima e steppi si butteranno in piscina e sorrida solo oro no non è vero la vedeva la ragione vedete la giuranza vince quindi sono allergico al cloro però hanno detto che Vegas vuole un po' di panna Vegas vuole un po' di panna ma che succede? sei allergico una sborratella tutto cazzo comunque ragazzi chi conosce sto gioco si dai un po' di più ma non c'è pasta ce la faccio la pappere per esempio dobbiamo dobbiamo usare questa levetta qua e saranno invece i ciri ma per dire che inizia il joker l'hanno capito inizia il joker quindi percateci butta i giochi no aspetta però se inizio io ma giochi le piava con gestione no se inizio io se inizio io posso buttare solo steppi a mia scelta no 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 o steppi o suri o Vegas che cazzo è a mia scelta o steppi o suri o anima a mia scelta no aspetta lo sai invece che se ci ridico 5 uomo fortunato ok ho preso la panna suri preparati no siamo pronti ssh silenzio 1 2 3 faccia di merda si va bene però no ti ho detto e surrida surrida allora adesso andiamo a scegliere tra oh 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 sei scemo non dobbiamo mi lasborratella sulla spalla no no perché la difesa no ho 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 ha preso me ragazzi ha preso me ragazzi oh ragazzi è buono io ho messo sacrificato siamo pronti steppi io ho messo ho messo sacrificato mi hai fatto l'occhiolino auguri per i 5 ci ho tradito ragazzi se non si butta non è che non si butta se non si butta qualcosa steppi è pulito è pulito va bene ti devi buttare e poi devi pulire tranquillo ah ti devi buttare non ti devi portare pure il tavolino steppi mi dispiace mi dispiace vai 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 steppi mi dispiace no devi fare ci gioca ci gioca ci gioca che vuoi che faccio dai cazzo sparamelo io ci gioca siamo gli altri bravo come funziona io non è sufficiente cosa basta face a mente immagin的話 che il missato guarda lì sono rigiati si è spaccato riprendilo da vicino che avete fatto male che cazzo è? prendi la brucia c'è un buco sembra un succhiotto non lanciarlo è l'acqua oh no no vai l'uomo grida adriana gridalo devi gridare adriana gridalo adriana forza non fa male mettete gli occhiali mettete gli occhiali aspetta che aspetta è spenta ah te l'ha bloccata aspetta no è troppo ste vai gira quello surri vai un attimo non la ruota non gira la ruota tre aspetta 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 chi è stato? surri qua se non fa le merda surri eh vai surri vai surri tre volte uno non gira avanti e non gira scivola tre va ecco ragazzi metti un po' vai surri vai che ragazzo uno ma quanto ne ha fatto? tre nooo che buona aspetta aspetta non infatti mi ha fatto a testa madonna dai il gel che non vuole claire Cristiano Ronaldo ha fatto il pizzetto ha fatto il pizzetto nomina chi deve andare in piscina ma cosa gli dichi? che eh vai gioco vai gioco a bomba porco te uh a bomba no fermo a bomba a bomba a bomba vai vai tre due uno vai Basta, non sono stato io, sei d'accordo, ok, devi nominare quattro persone, te ce la fanno in tre, tre giri vai, vabbè su 54, 2, 3, e basta, buccacchia, chi nomini? Quattro persone, anima, anima, quattro persone, anima, stai guarda chi è asciutto, Zanzo, Zanzo, ijoker e tu sei il video, quindi pure te, va bene, mi ha buttato il pan-bom, ok, quindi sono quattro, Klaus, anima, Klaus, dai, registro io, ma io, dai, dai, bucato, si mostri la telecamera, ok, però, è Joker e tu sei il video, quindi pure te vabbè io mi butto bene e pam pam ok, quindi sono quattro Klaus, anima Sanzo, è Joker perchè non aspetti gli altri? no no Mike c'ha ragione no la piscina è alta tipo... effettissima allora oggi ci abbiamo un ferito grave quattro ammalati, cinque ammalati andiamo il prossimo il prova vai Senti Dexer Dexer vai Dexer grande Dexer grande Dexer è più fedi pregato io tampullo Robert e ora chi manca? è muo' anima raga ooooo sei pronti? non è vero non è vero 3,2,1 oh è rimasto a casa scendi mi la mettassero di sotto è sotto di te ma vota la gragnata e ti ci sono in piedi ragazzi con la GoPro sei messo a serie sto coglione quindi che bello nuovo video capodanno adoe e le papere e le papere se arriva il tipo bisogna far andare a casa ma è capodanno affoghiamo affoghiamo la morte di stepney aiuto salviamolo un delfino grazie grazie dei 400.000 spietti e 500.000 ma ecco i piedi dal delfino è tutto bella guarda 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 che schienata i squali i squali eh si dun 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 dank dun 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 200.000 mi piace per Surry No no aspetta Surry quanti like vogliamo per questo video Ti devo chiudere il canale Segnalate per violenza sui minori Questa è la vita Questa è la vita